Eccoci qua, siamo a casa del nostro amico Giuseppe Monticone, che ci ha chiesto aiuto dal ponte Forlanini. Giuseppe, la tua richiesta è venire a dare una mano a portassù della roba a salvare il salvabile, stivali, guanti e fila frontale, perché qui la luce da un momento in alto manca. Il nostro amico Giuseppe ha fatto la sua richiesta, anche il tanaro sta crescendo, il campo qua dietro alla casa del nostro amico Giuseppe, vado a vederla, Giuseppe, faccio vedere il campo che già inizia a dare i primi segni di allagamento, sta crescendo anche il tanaro, il nostro amico Giuseppe, il campo è allagato, ritorniamo da Giuseppe con la sua richiesta di aiuto, se volete dare una mano. Eccoci qua. Ho chiesto aiuto, chi può arrivare con stivali, guanti e fila frontale perché da un momento all'altro non manca l'acqua. La luce, l'acqua ce n'è già fin troppa. Va bene, l'appello del nostro amico Giuseppe l'abbiamo subito raccolto noi di Svegliati e Alessandria, siamo qua nel suo cortile, la situazione è veramente drammatica, anche qua piove a dirotto, se c'è qualcuno che vuole venire a dare una mano a Giuseppe, lui è qui e vi aspetta. Bene, chiudiamo questo collegamento, questa ennesima diraglia. Un saluto a tutti.